Siamo alla fase finale di questo progetto, quali risultati abbiamo ottenuto, che bilancio possiamo fare? Allora, un bilancio direi assolutamente positivo. Il progetto Vale, l'esperienza si è sviluppato lungo tre filoni e il più importante sicuramente è stata quella della formazione, dell'orientamento e dell'accompagnamento al lavoro. Abbiamo formato complessivamente tra i partner italiani e i partner francesi 69 allievi. Molti di loro hanno effettivamente sviluppato competenze professionali di alto livello, hanno raggiunto dei buoni livelli di prestazione e anche i risultati occupazionali sono decisamente positivi. Metà di loro infatti ha trovato lavoro nell'ambito di pasticcerie e gelaterie o nella ristorazione, proprio occupandosi poi della filiera della pasticceria. Alcuni di loro hanno deciso di intraprendere ulteriori percorsi formativi, perché è un settore questo dove la formazione è importantissima, l'esperienza lavorativa altrettanto, e quindi hanno deciso di intraprendere percorsi di istruzione tecnica superiore, per esempio nell'agroalimentare. Abbiamo anche il successo di tre attività imprenditoriali avviate, un risultato interessante, sicuramente i numeri non sono altissimi, ma effettivamente dietro alla creazione di un'impresa c'è tantissimo lavoro, tantissime risorse da investire, personali, economiche, quindi per noi comunque già un successo non preventivato.